Allora siamo andati con lì a mezzo e con Pironia, vogliamo fare un applauso a Cometana, alla signora, a tutti i cattori, facciamo un applauso, dove dicono che si mangia bene, fare a pesca, fare giusto in panna, con pina giusta, giusto in panna, allora proprio perché così noi ne abbiamo portato una mella, ne evite i bicchieri di vino, ma ne dico poco, così noi facciamo una persona che si chiama vino vino, la conoscete? Andaggia Lopino Lopino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.